Ebbene sì, ci siamo 4 minuti dopo le 18, ma hai notato sta cosa che non arriviamo mai in retardo? Mai, sempre puntuali, sempre puntualissimi, oggi da tante ore siamo qui e da tante ore che ti sopporto in questa giornata lavorativa in Largo Donegani, e devo dire che in tante ore, e come dire il nostro amico Simo J, oh basta, ti sopporto già più prima di iniziare, vai, 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 vai via, oh, è arrivato anche Darione dall'altra parte del vetro insieme a Spine, lo salutiamo, vuoi dire qualcosa? Dai, brusa porco Dai, di brusa porco tu come lo dici il venerdì? Dai, dai Eh, non ho capito Di brusa porco tu come lo dici il venerdì? Brusa porco Brusa porco Sono uguale, dai, me lo dico da solo, ma è così Edoardo Mecca Dario Micolani, salutiamo oggi in presenza anche Sara Che stava cantando anche lei l'ultima canzone di 105 Music and Cat degli Oasis Seconda, non mi riponderò tu, ma neanche Esatto, appena, appena ho seguito la canzone ha proprio detto Che bello Che bella Che bella, wow Sei proprio casata, è casata Che bella la ballo Vabbè 9 maggio 2023, caro Edoardo Mecca e cari ascoltatori, speriamo insomma che voi stiate bene dalle vostre parti Oggi